Il 18 dicembre si terranno le votazioni per l'elezione del nuovo presidente della provincia di Pescara che succederà ad Antonio Zaffiri. Presidente, quella di oggi è la giornata del saluto, del commiato ma anche e soprattutto del bilancio di quanto fatto in questi anni. Tanto lavoro è stato portato avanti in un periodo difficile per il Paese e anche per le province. Sì, il mio mandato è da ottobre 2018, quindi circa tre anni. Ed è stato un periodo difficile, ma noi non abbiamo preso queste scusanti delle problematiche e delle difficoltà dovute alla pandemia, dovute ad altre situazioni, tant'è che in tre anni, nell'arco di tre anni abbiamo appaltato circa 60 milioni di opere, che non sono poche. La maggior parte delle opere sono state già completate, quindi già a disposizione della comunità, della collettività. Altre opere sono in fase di inizio lavori, in essere, diciamo così, però ripeto circa 60 milioni di opere. E la nostra forza e la nostra capacità è stata quella di mettere in campo queste risorse e renderle utili alla collettività, perché questi fondi erano in provincia dal 2016. Al 2019 sono stati fermi senza nemmeno fare la progettazione e né altro. E quindi noi abbiamo avuto la forza, la determinazione e l'organizzazione di portare avanti queste opere. Le scuole abbiamo un bel programma e abbiamo portato avanti alcune situazioni anche molto, molto importanti e impegnative, quali il Marconi, però in realtà quelle che abbiamo messo proprio a essere è la viabilità. La viabilità è quella più pratica, veloce e già si vedono i risultati, soprattutto nell'entroterra della provincia di Pescara. Per quanto riguarda le scuole c'è un bel programma, però è molto più lungo e impegnativo, perché poi l'edilizia e le infrastrutture ci vogliono più tempo per realizzare. Il Marconi, faccio esempio del Marconi, che si è costruito una vicenda, una strumentalizzazione politica intorno al Marconi che non ha avuto uguali. Hanno fatto di tutto e di più per cercare di evidenziare cose che non esistevano e noi abbiamo dato una grande risposta. Innanzitutto con una scuola innovativa, la demolizione e ricostruzione del Marconi, che è una scuola innovativa per i ragazzi, la sicurezza dei ragazzi e la fruibilità.